She said my boy is tiger Oh yeah Appassione di Moviola, benvenuti alla nostra Super Moviola Siamo qui alla ricostruzione dello Stadio Cipoli Vediamo la computer grafica perfettamente ricostruita Il massimino anche con un sottofondo fastidioso Anche la giornata privosa è stata ricostruita alla perfezione Con un freddo che si aggirca Andiamo a vedere subito al ventesimo del primo tempo C'è un episodio in sospetta, andiamo avanti con le immagini Vediamo Alvarez scontrarsi con Rosa Ecco stop Guardate il contatto fra i due piedi e Netto Ecco andiamo avanti con l'immagine I due cadono a terra La computer grafic si rifiuta di cadere a terra visto il freddo Andiamo al prossimo episodio Siamo al momento topico della partita È il 65esimo E l'arbitro tagliavento sta per decretare la sospensione della partita Ecco andiamo avanti con le immagini Vediamo che il pallone ancora rimbalza Nel frattempo il capitano Isco Propone all'arbitro tagliavento di utilizzare il pallone da palla nuovo Che comunque l'arbitro dice di non utilizzare Nel frattempo vediamo l'inquadrato Pjanic Seguendo le indicazioni di Mr. Ricca della panchina Tenta buca il pallone Guardate come buca il pallone per non farlo rimbalzare Lo porge di nuovo all'arbitro tagliavento Per verificare se la gara è da continuare Vediamo il pallone non rimbalza più Quindi abbiamo visto mentre le immagini possa andare avanti L'arbitro de Guedda la sospensione della partita Come in realtà il campo un pochettino reggeva Mentre grazie all'astuto stratagemma del capitano della Roma La partita è stata sospesa E mentre i giocatori rientrano negli spogliettori La linea passa di nuovo a te allo studio Valentino La linea passa di nuovo a te allo studio Valentino